Buongiorno, sono ancora io, voglio parlare delle azioni, bisogna sempre investire quella da parte di capitale che uno ha e sa di non avere mai bisogno, perché magari in quel momento non è propicio venderlo perché va cedendo, bisogna sempre aspettare quando il momento è buono e sta percibire, perché non deve essere un investimento. fatto con dei soldi che uno può aver bisogno da un momento all'altro questo investimento di capitale deve essere fatto con una certa elettorazione perché diventa difficile poi a recuperare tante volte i soldi ci vogliono male degli anni oppure si può guadagnare subito in pochi mesi però è molto relativo a questo vestendo poi in altre forme di o o muerà che si sarebbe dagnosi in lui perché magari ci sono dei periodi che vanno bene certi tipi di aziende e certi altri tipi no per evitare di fare di stress che non uno ci perde poi alla fine ci sarebbero tante cose da parlare sull'azione ma è un po' difficile adesso in questo momento così che è meglio che è meglio forse non investire tanto adesso forse è meglio conviene tenere ancora i soldi lì con i pochi che uno ha sull'erroco stando sempre attenti il famoso bailin e almeno rimangono sicuro vi saluto e assorbala grazie